sull'unione sulle punti di convergenza la rivolgo anche lei e le chiedo anche se eh a Monza sosterrete o avete idea avete incontri avete in programma incontri per sosterere lo stesso candidato il candidato del PD è Marco Cappato è il candidato anche di sinistra italiana se non erro e e quindi domanda a Giuseppe Conte se ha a voglia il candidato del Movimento Cinque Stelle sarà Cappato per Monza Grazie della notizia